Se vogliamo riportarci nell'Umbria dove tutto è bello, andremo nella bellissima Orvieto. Per le sue chiese e le sue vie, che conservano ancora l'impronta medievale, Orvieto rende felice il viaggiatore romantico. Il Duomo, con la facciata dalle vaste pagine che Lorenzo Maitani ideò e scolpì, con i mosaici che risplendono nel tramonto, con il rosone dell'Orcagna e del Signorelli, è cosa troppo celebre perché qui si possa parlarne. Sorse per ricordare il miracolo di Bolsena, avvenuto nel 1263, quando un prete boemo, celebrando la messa, vi destillare il sangue dall'ostia consacrata.